Buongiorno a tutti, proseguiamo con il terzo video riguardante le schedine e le bollettine del Gigione e questa volta parliamo del campionato francese che si disputerà tra sabato e domenica. Quindi partiamo subito con la schedinazza. Quindi o vincere Nizza o vincere Nantes. Partite di domenica. Vediamo la schedina alternativa che ho preparato. Andiamo alle bollettine e le quattro partite che ho scelto per creare appunto le bollette. Allora, Angers Paris Saint Germain 2, Digione Strasburgo 1, Renguin Camp 1, Lille Bordeaux 1. Con 5 euro se ne vincerebbero 39,68. Con 5 euro se ne vincerebbero 16,73 che comunque non fanno schifo. Terza bollettina. Angers Paris Saint Germain 2 più over, Digione Strasburgo 1x più over, Renguin Camp 1x più over e Lille Bordeaux 1 più over. Tutti gli over naturalmente sono over 1,5, anche perché il campionato francese solitamente è parco di gol, non è che ne segnano tanti. Comunque, con 5 euro se ne vincerebbero 33,12. Quarta bollettina che a me piace molto è quella con il gol casa, gol ospite. Angers Paris Saint Germain, gol casa. Digione Strasburgo, gol ospite. Renguin Camp, gol ospite. Lille Bordeaux, gol ospite. Con 5 euro se ne vincono 22,10. Veniamo alla quinta e sesta bollettina che io definisco sempre pazzarrielle o folli, perché sono i gol più over e il tricombo. Quindi partiamo col gol più over. Angers Paris Saint Germain, gol più over. Digione Strasburgo, gol più over. Renguin Camp, gol più over. E Lille Bordeaux, gol più over. A parte Digione Strasburgo, in cui il gol più over è leggerissimamente, ma proprio infinitissimamente sfavorito rispetto al no gol più under, ma siamo nell'ambito dello 0,10 di differenza. Quindi per dire Digione Strasburgo, gol più over 3, no gol più under 2,90. Quindi siamo lì. Le altre sono tutte favorite, infatti 5,97,96 è proprio una cifra medio-bassa per un gol più over. Infine, bollettina folle. Angers Paris Saint Germain, 2 più gol più over. Digione Strasburgo, 1 più gol più over. Renguin Camp, 1 più gol più over. E Lille Bordeaux, 1 più gol più over. Con 2 euro se ne vincerebbero 247,91, quindi una cifra anche in questo caso medio-bassa, per un tricombo direi anche bassa, perché sono arrivata del tricombo a 3.500 euro con 5 euro e a 1.000 euro con 2 euro, anche di più. Quindi è una cifra bassa e potrebbe anche uscire. Per i coraggiosi, con 5 euro se ne vincerebbero 619,77. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo naturalmente ai prossimi video che riguarderanno appunto il campionato spagnolo e il campionato inglese che si giocano domenica. Quindi giocheranno domenica e lunedì o solo domenica. E quindi lo farò con comodo nella giornata di sabato. Ciao!